è un po' di tempo che c'ho un dubbio che me ronza me ronza me ronza non so voi però io ho l'impressione che questi avete capito che so questi è inutile che ve lo spiego come dire ci stanno a coglionare tutti voi direte vabbè insieme a me sti cazzi eh no stavolta sti cazzi mi va più bene c'è un'altra frase c'è un'altra cosa che però adesso così su due piedi ci sto pensando un po' non mi viene mi date una mano suggeritemi una frase figa dai perché noi come dire quieti adesso non ce volemo stà dai e mo il bottone ma già perché non ho fatto davanti dietro mo sta dietro vabbè un casino vabbè sti cazzi